Musica Telespettatrici e telespettatori di Rossini TV, buongiorno, benvenuti a Casa Rossini, il nostro salotto con ospiti che proponiamo in diretta ogni lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana, ormai da qualche mese, andremo avanti ancora per altri mesi. I contatti per inviarci, e lo vedremo fra un po' che qualcuno comincia a utilizzarli, sono 351 708 9977 WhatsApp per mandarci messaggi, vocali, testi, indicazioni, segnalazioni, dediche, tutto quello che volete e anche, perché no, foto, le vedremo fra un po', casarossini, chiocciolarossinitv.it per mail, per tutto quello insomma per il quale preferite usare la mail piuttosto che il canale di WhatsApp. Nell'invito appunto a utilizzare questi strumenti, diamo un'occhiata a chi questi strumenti ha già utilizzati qualche giorno fa, qualche giorno fa abbiamo avuto ospite con noi il sindaco di Sant'Angelo Invado, ecco l'occasione, avevamo parlato della nevicata e abbiamo detto se c'era qualche foto da inviarci, ha raccolto l'invito Nadia che ci manda tre foto bellissime, le vedete adesso in questo momento, eccole qua, sono veramente suggestive. E poi altre foto, le ha mandate oggi Marco, da Monte Felcino, località Monte Guiduccio per essere precisi, qui sono altre foto di Sant'Angelo Invado, bellissime, veramente suggestive. Ecco, qui invece siamo a Monte Felcino per le foto di Marco, intanto ringraziamo Nadia naturalmente, ecco, e queste sono le foto che Marco ci ha inviato oggi. Utilizzate questo strumento, fateci vedere le vostre foto, siamo un canale televisivo per cui cosa di meglio che far vedere a tutti il risultato della vostra abilità di fotografi, tra l'altro ricordiamo anche, lo ridiremo anche dopo, ma lo ricordiamo anche adesso, che il 24 febbraio avremo ospite per la seconda volta con noi Roberto Bartolini, grafologo e non solo, ma soprattutto tornerà per questa sua abilità speciale, per questa sua professionalità e professione di grafologo. Inviateci, se volete essere sottoposti a una valutazione grafologica, inviateci una decina di righe, meglio ancora se sono righe che avete già scritto in un altro momento, che non scrivete apposta, anche in questo caso fate una foto a quello che avete scritto, più diciamo, dettagliata e definita possibile, inviatecele e ovviamente noi manterremo, se lo vorrete, l'anonimato totale oppure magari dando solo indicazione del nome e ascolteremo dal nostro grafologo qual è la valutazione, il risponso. Il sondaggio di oggi, che si rifà poi tra l'altro anche a una delle notizie di cui parleremo fra un po' è tra cane e gatto, preferite o comunque avete un cane o un gatto, vedremo, scatenatevi, immagino che questo sia uno dei sondaggi che avrà maggior successo, mi sono divertito molto, come vedete, anche a cercare le foto, anche perché poi dopo vi diremo, ma lo sapete già sicuramente, se avete un cane o un gatto, che oggi è la giornata del gatto. I risultati del sondaggio della scorsa puntata, camminata o corsa, i definitivi sono, vedono la camminata prevalere con il 78% sulla corsa che invece ha il 22%. Siamo gente tranquilla, insomma ci piace più uscire magari un po' prima e camminare piuttosto che correre all'ultimo minuto, naturalmente è una battuta. Oggi è il 17 febbraio, 48esimo giorno del calendario gregoriano, mancano 317 giorni alla fine dell'anno, secondo personologi oggi è il giorno del combattente. Abbiamo oggi appunto già anticipato che è la festa nazionale del gatto, è curioso sapere come è nata questa cosa, è nata nel 1990 da un'idea di una giornalista gattofila, Claudia Angeletti, che ha proposto un referendum tra i lettori della rivista Tutto Gatto per stabilire il giorno da dedicare a questi animali. La signora Oriella Del Col ha proposto il 17 febbraio motivandolo con una serie di significati. Il febbraio è il mese del segno zodiacale dell'acquario, ossia degli spiriti liberi e anticonformisti come quelli dei gatti. Tra i detti popolari febbraio veniva definito il mese dei gatti e delle streghe. Il numero 17 nella tradizione italiana è sempre stato ritenuto un numero portatore di Sventura, stessa fama che in tempi passati era riservata al gatto. La sinistra fama del 17 determinata dall'anagramma del numero romano e c'è tutta una cosa che collega anche a questo. E infine il 17 è una vita per sette volte che tradizionalmente si attribuiscono al gatto. Insomma per questi cinque motivi la signora Oriella Del Col è riuscita a far prevalere la sua proposta e dal 1990, per cui da 31 anni, il 17 febbraio è la festa del gatto. Per la Chiesa Cattolica oggi invece è naturalmente il mercoledì delle ceneri. La tradizione legata a questo giorno particolare risale al X secolo. Il rito della cospersione delle ceneri ha una funzione di benedizione e allo stesso tempo di purificazione, ricorda il destino mortale di tutti gli uomini. Ricordiamo che questa sera, oggi pomeriggio, alle 18.30 in diretta dal Duomo di Pesaro, le celebrazioni appunto su Rossini TV per il mercoledì delle ceneri, come ricorda opportunamente il cartello che ci propone la regia. Le ceneri utilizzate dal sacerdote sono ricavate bruciando ramoscelli d'olivo risalenti alla Domenica delle Palme. Da tradizione durante il mercoledì delle ceneri si dovrebbe digiunare e astenersi dalle carni, così come avviene nel venerdì santo. L'evento storico, ultimamente stiamo concentrandoci su un evento solo, l'evento storico del 17 febbraio 1952 in Norvegia, Oslo. Giuliana Minuzzo, che è stata una sciatrice nata nel 1931 e scomparsa nel 2020, la prima italiana a vincere una medaglia nella storia dei giochi olimpici invernali. Si è giudicata il bronzo nella discesa libera, quella volta era veramente avventuroso scendere su quei pendii con quelle attrezzature, ai giochi di Oslo del 1952, quattro anni più tardi, fu la prima donna della storia dei giochi a pronunciare il giuramento olimpico. Il pensiero del giorno, ciò che non oppone resistenza, può essere anche più difficile da attaccare e dopo questa lunga introduzione siamo a presentare finalmente la prima ospite della giornata, Patrizia Bucci. Buongiorno Patrizia. Ciao Paolo, buongiorno a tutti. Hai ascoltato, ho visto con molta attenzione tutto quello che ho detto. Sì, molto interessante, molto interessante. D'altra parte, Patrizia Bucci è guida turistica abilitata e di conseguenza non può che essere curiosissima di tutto quello che viene raccontato, non solo per quanto riguarda i percorsi e le cose, ma anche per la vita di tutti i giorni. Certo, sì, perché poi si prende sempre spunto anche da queste cose che si vengono a sapere per poi raccontarle. Esatto, io sono un po', adesso mi piace immaginarmi, sono un po' la guida televisiva della giornata, insomma, ti rubo il mestiere ma dallo schermo, senza muovermi, insomma, senza muoverci. Allora, Patrizia è nata il 9 dicembre, anche per te la prova del librone personologi e poi dopo entreremo naturalmente a parlare del motivo per cui sei qua. Il giorno dell'avventura fantasmagorica, il 9 dicembre, per cui è anche bella come definizione. I nati il 9 dicembre sono persone attive, fantasiose e che adorano avere tutti i riflettori puntati su di sé. La vita è ai loro occhi una romantica avventura piena di audaci imprese e sorprendenti esperienze. Corrisponde perfettamente. Direi che ci siamo. Sono nati nello stesso giorno Kirk Douglas, John Milton, il poeta teologo inglese, Goffredo Parise, il narratore giornalista italiano, Sonia Gandhi, che di origini venete è diventata una politica indiana, presidente del partito del congresso indiano. Insomma, sei in buona compagnia direi che questo giorno. Nei pregi abbiamo un romantico, impetuoso, energico. Insomma, il quadretto è perfetto. Benissimo. Molto bene. Allora, Patrizia da 20 anni, con molta passione, da oltre 20 anni, oltre 20 anni, con molta passione, svolge l'attività di guida turistica. Allora, guida, accompagnatrice, insomma, c'è un po', per entrare già nel vivo, c'è un po' di confusione intorno a questa denominazione. Sì, già tu hai detto due parole che sono in contrasto, perché una cosa è la guida turistica e una cosa è l'accompagnatore turistico. Sono due professioni completamente diverse. Allora, oggi diventiamo televisione di servizio, come siamo sempre, del resto, e insegniamo delle cose, per cui prendete anche degli appunti perché è importante. Eh sì, perché c'è una legge proprio sulle guide che disciplina tutte le professioni turistiche, per cui bisogna distinguere a ciascuno il proprio ruolo. Ci sono le guide ambientali, ci sono i maestri di sci, ci sono gli animatori, ecco, quindi sono tutte figure professionali che necessitano di un'abilitazione. Noi, per esempio, nei guide turistiche ci siamo abilitate superando un esame, un esame che viene organizzato dalla regione adesso e quindi superandolo si diventa guide turistiche abilitate. E perché il cittadino è bene che sappia questa, che conosca bene questa differenza, questa definizione e tutto quanto? Sì, perché ecco, ci sono tanti che si improvvisano, ci sono i ciceroni della domenica, come li chiamiamo noi, e poi ci sono i volontari che lo fanno effettivamente anche per volontariato, all'interno di associazioni culturali che fanno visite guidate, però ecco, quando si parla di guida turistica è una reale professione, per cui ecco, bisogna sempre fare distinzione e soprattutto, ecco, io dico sempre che bisogna mostrare il nostro tesserino, che è un tesserino di riconoscimento, quindi le persone sanno che hanno a che fare con una guida turistica abilitata, quindi un po' una garanzia diciamo. Esatto, ecco, per quello appunto, infatti è lì che volevo arrivare. Cioè, è importante come quando ci si rivolge ad altre professioni dalle quali ci aspettiamo il massimo, che anche rivolgendosi a una guida che ci accompagna a conoscere delle cose di un territorio, di uno spazio, di una struttura, di un edificio, di quello che è, insomma, è importante che noi ci preoccupiamo di essere in mani giuste, nelle mani buone. Esatto. Allora, la pandemia chiaramente, come battuta iniziale, non può mancare, perché la pandemia ha creato parecchio scompiglio anche nel campo delle guide turistiche. Eh sì, perché noi siamo un anello di quel settore, quello turistico, che se vogliamo è il più fragile, è un settore molto fragile perché è fortemente condizionato dai vari eventi, eventi sociopolitici, per esempio, non so, gli attentati fermano i turisti, fermano i viaggi, gli eventi geologici, non so, il terremoto, per esempio, il terremoto del 2016 e 2017 ha causato un arresto per noi, no? Ci siamo visti cancellare tutte le gite scolastiche perché è accaduto poi ad agosto, no? se ti ricordi, e quindi, insomma, questi eventi, anche cataclismi, incendi, ne succedono sempre di ogni, ecco, fermano il nostro lavoro e questo è stata una cosa eclatante perché a livello mondiale non si viaggia più e quindi per noi, insomma, lo stop è forzato da più di un anno ormai, perché, cioè... Sì, sì, sono in questi giorni, spero che nessuno venga in mente di fare qualche celebrazione perché già si sente dire il 21 era il primo giorno, il primo caso di Cologno, eccetera, spero che nessuno venga in mente di fare proprio delle vere e proprie celebrazioni perché ci mancherebbe solo quello. Speriamo di no perché poi proprio il 21, che è domenica di febbraio, ricorre la, diciamo, la giornata della guida turistica internazionale a livello mondiale, si celebra questa giornata, accade proprio il 21 di febbraio, quindi noi, ecco, guide, ci siamo unite, ci siamo messe insieme, siamo cinque guide di Pesaro e vogliamo fare una proposta ai pesaresi. E siamo qui per questo proprio, siamo qui oggi per questo, proprio per parlare di questa cosa di domenica, certo che la vitaccia tutte le sere appesi al telegiornale per vedere che non succeda niente, cosa è successo e tutto il resto, poi arriva addirittura la pandemia, insomma, c'è da remare controcorrente per parecchio. Per parecchio e si parla, insomma, fino per noi almeno, le agenzie viaggi, tour operator parlano del 2022, i primi viaggi che si potranno organizzare in maniera collettiva con i pullman. Immagino che anche voi vi stavate preparando per questa cosa del 2020 che era stata indicata come Best Destination. del mondo, è tutto il resto, insomma, vabbè. Una partenza gonfie vele, siamo andati alla deriva. Mettiamolo un attimo lì, accantoniamolo. Il calendario comunque continua a correre, da un certo punto di vista fortunatamente, è appunto il 21 febbraio, c'è questa giornata internazionale della guida turistica che è una cosa che non è degli ultimi tempi, è proprio una... No, no, sono diversi anni che si svolge questa giornata dove le guide si propongono e fanno visitare le proprie cittadine e in questo caso adesso noi vogliamo lanciare proprio ai cittadini pesaresi, insomma, ai locali, quindi parliamo di turismo residenziale, non esiste, ma ce lo inventiamo oggi. E certo, certo. E vorremmo così offrire il nostro sapere, le nostre conoscenze ai cittadini pesaresi per scoprire Pesaro. E adesso capiremo bene che cosa vuol dire tutto questo, già intanto la regia sta facendo vedere queste locandine che voi state proponendo per i tinere, però volevo fare una riflessione, in effetti è vero che il turismo residenziale come battuta la stiamo inventando oggi, come definizione la stiamo inventando oggi, però ne parlavamo poco prima di andare in onda, Pesaro è una città che ha 90.000 abitanti, quando gli alberghi sono tutti pieni abbiamo 10.000 turisti, per cui probabilmente i principali turisti nella città, anche intesi come quelli che vanno al mare e tutto il resto, ebbene lo sanno i gestori di spiaggia, sono principalmente i pesaresi. E allora perché non rivolgersi anche ai pesaresi per quanto riguarda tutto quel corollario di attività che di solito invece siamo abituati mentalmente così a considerare riservate ai turisti che vengono da fuori. In questo si inserisce perfettamente questa idea di in itinere. Allora è arrivato il momento giusto per dirci che cos'è, dopo aver creato tanta attesa e tanta attenzione ai nostri telespettatori, che cos'è in itinere? Allora innanzitutto è questa guida che faremo, questa visita guidata che faremo, non una guida ma cinque, saremo in postazioni diverse, in postazioni diverse della città, quindi sto parlando del 21 intanto, per cui i visitatori potranno conoscere Pesaro, spaccati della storia di Pesaro, da cinque guide diverse. Quindi sono mini itinerari, se vogliamo dirla così, che ciascuno di noi propone ai visitatori. Quindi saranno accompagnati come una sorta di staffetta da un luogo all'altro dalla città di Pesaro e quindi ascolteranno cinque guide diverse, per cui una guida staffetta. Esatto, a staffetta, per cui c'è un punto di partenza del tour con una prima guida, che sarà, avete già deciso? Sì, che è in Piazzale della Libertà dove c'è la grande sfera di Arnaldo Pomodoro, noi lì ci ritroviamo, la famosa palla, lì ci ritroviamo tutte e cinque, ci presenteremo, diremo appunto lo scopo del nostro progetto e poi da lì si parte, quindi si illustrerà la prima parte, che sarà quindi la parte della palla di pomodoro, del villino Ruggeri e poi via via si va a scoprire tutto il resto dentro la città. Ma tutti e cinque seguite, poi ognuno in base al suo percorso prende la parola, oppure tu traghetterai i tuoi da uno all'altro e poi li lasci, eccetera? Sì, c'è proprio un traghettare da una guida all'altra e li lasciamo, li divideremo proprio per evitare anche il discorso. Avete stabilito un numero massimo? Allora, visto che siamo cinque, si può arrivare anche cinquanta persone tranquillamente perché poi li divideremo in tre gruppi, quindi diciamo una inizia dalla palla di pomodoro, poi ci sarà un altro punto da cui si inizia, non so, la piazza del popolo e poi un altro punto e poi via si gira attorno, ecco, nei cinque punti prefissati. I punti li vogliamo anticipare o lasciamo la sorpresa? Beh, possiamo anche anticiparli, un punto, dunque abbiamo detto la palla di pomodoro, poi ci sarà il castiglione, poi ci sarà il duomo e i rossini, casa rossini, poi ci sarà il ghetto ebraico, quindi la sinagoga e poi ci saranno le chiese di Pesaro, le chiese importanti di Pesaro e la piazza del popolo e quindi insomma, ecco, ognuno a di noi, insomma, spiegherà, illustrerà l'argomento che ha scelto. Certo, e in questo caso sarete certi, visto che è organizzata da questo gruppo di guide abilitate, di essere nelle ottime mani di qualcuno che insomma sa perfettamente quello che sta facendo e quello che vi viene a raccontare. C'è un numero da chiamare, vero? Lo vogliamo dire? Sì, nella locandina c'è il numero di Silvia, adesso non so se... Lo possiamo intanto dire? Sì, adesso è 335-614-4241, è il numero di Silvia, lei raccoglie le iscrizioni, quindi ecco, un elenco di persone che poi verrà tenuto come si deve fare adesso in base alla normativa Covid e quindi basta chiamare a questo numero e ci si può prenotare. Tra le pochissime cose buone che ci ha lasciato e che ci lascerà quando se ne andrà finalmente la pandemia, c'è questa nuova abitudine a prenotarsi, che la gente è sempre stata un po' restia a prendere l'impegno, invece tutto sommato adesso si è capito, obbligatorio, per cui prenotatevi. La prenotazione è telefonica, per cui a quel punto lì poi il pagamento della piccolissima quota che avete previsto avverrà poi sul posto, direttamente. E se qualcuno proprio non ce la fa perché la sua indole gli impedisce di prenotare, di vincolarsi, un salto alla palla domenica mattina lo può fare lo stesso? Certo, certo, poi vediamo lì anche con i numeri. Senza garanzia però, perché se i prenotati, sono molti, lo dico perché se no la gente viene... Esattamente, i prenotati hanno priorità. Esatto, i prenotati hanno priorità e serve prenotarsi. In fondo è una telefonata non vincolante, non dovete inviare soldi dal telefono, insomma cose del genere, per cui la telefonata fatela per prenotare in modo che siete sicuri di partecipare. Se poi qualcuno proprio si sveglia quella mattina e dice, ah, avevo un appuntamento ma mi è saltato e quasi quasi vado alla palla a vedere cosa succede, può farlo, può farlo e forse, forse, un posticino lo si trova. Glielo troviamo, glielo troviamo. Va bene, questo per essere... perché se no sai, se dici così poi alla fine la gente dice, ah, allora non prenoto e voi vi ritrovate lì a aspettare chissà cosa. Noi speriamo che insomma aderiscono in tanti. Io sono sicuro perché comunque devo dire che un'altra delle cose che appunto la pandemia ci sta lasciando è questa attenzione nuova e diversa ai luoghi che ci circondano, a cominciare dalla casa, no? Cioè molta gente ha scoperto casa sua dovendoci stare, no? Tanto è vero che c'è questa adesso un po', come posso dire, leggenda, ma che leggenda non è di un grande, come posso dire, una grande attenzione nei confronti dei mobili, i mobiletti vanno tutti all'Ikea, comprano, fanno, smontano, spostano, perché comunque si comincia a capire il valore della casa. Probabilmente si comincia anche a capire e scoprire il valore della città dove si è, no? Sì, facciamo i turisti a peso, insomma. Esatto, per cui insomma secondo me non è poi del tutto male questa cosa qua. Sì, infatti noi abbiamo anche pensato di andare avanti poi con questo progetto in itinere perché ogni weekend adesso abbiamo altri appuntamenti che proponiamo e visite diciamo guidate un po' alternative, visto che i pesaresi comunque la città la conoscono, è chiaro che il nostro sapere è sempre stato rivolto a un turismo straniero e adesso abbiamo a che fare con il pesarese che conosce la città per cui andiamo alla ricerca di itinerari un po' particolari. Per cui ecco ci sono già in programma degli itinerari, se vuoi ti posso già erencarne alcuni. Sì, sì, sicuramente anticipiamoli così almeno se qualcuno proprio domenica non poteva sa già che... Esatto, quindi la prossima ci sarà Forma Urbis, ci sarà Luigi che condurrà questa visita guidata in città, poi ci sarà il 7 marzo che è la vigilia della festa delle donne, si parlerà quindi di donne pesaresi illustri che vanno dal rinascimento al risorgimento e qui saranno tre guide che faranno questa visita. Poi passiamo al 14 marzo, ecco questa è molto particolare perché sarà una vista guidata al cimitero centrale di Pesaro e si visiteranno e si parlerà delle tombe di personaggi illustri di Pesaro, questa sarà Silvia. Poi ecco ci sono io con i misteriosi sentieri dell'antica fonte di Sayano, quindi un percorso tra natura e storia e architettura. E poi ne abbiamo un'altra che parlerà di Rossini, vizi, virtù, estro, ardore e sregolatezza. Quindi ecco sono cinque itinerari che già sono in programma per i prossimi weekend. Per cui non con la formula di itinere ma con la formula tradizionale della visita guidata con un unico guida. Sì, un'unica guida anche se quella del 7 marzo sono tre guide che interverranno. Che intervengono e si dividono. Il calendario premia perché il 21 che comunque era previsto è domenica. L'8 marzo è domenica. Il calendario inteso come calendario gregoriano premia la realizzazione, non c'è necessità di fare delle forzature. Senti hanno mandato avanti te a parlare qui in diretta, però non se lo meriterebbero. Però diciamo chi sono gli altri. Certo. Così diciamoli, citiamoli. Allora, Silvia Orlandi, Luigi Fazzi, Elena Bacchielli e Francesca Giommi. Sono i miei colleghi. Bene, dai, questo è il, vedi, vedete, giustamente l'immagine riporta i tesserini di abilitazione che sono, appunto, l'abbiamo detto più di una volta, fondamentali. Voi li esponete, li esibite sempre? Sempre perché è obbligatorio esibirli. Certo, 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 certo. E insomma viene una bella cosa, no? Sì, dai, speriamo che sia bella, speriamo che piaccia e speriamo di andare avanti così ecco che insomma riusciamo a trovare anche un modo di lavorare in questo momento così di pausa forzata, un po' lunga. Ecco, e noi insomma chiediamo anche, faccio un appello anche agli amministratori dei vari comuni di coinvolgere sempre le guide, soprattutto quando si parla di patrimonio culturale, di servizi museali, insomma di coinvolgere le guide, perché ovviamente in questo momento mi sembra giusto che sia così, hanno le competenze innanzitutto, hanno insomma competenze anche multidisciplinari, conoscono le lingue straniere, quindi insomma tutto serve. Sicuramente il miglior modo di tutelare una figura professionale come quella delle guide è farle lavorare sostanzialmente, per cui meglio di così insomma non c'è e non è poi così difficile scegliere e rivolgersi direttamente alle guide abilitate piuttosto che trovare magari salti mortali per altre soluzioni. Altre persone che magari non hanno questa abilitazione. Esatto, altre soluzioni. Questa cosa di far conoscere la città ai residenti, ai locali, ai pesaresi, comunque non è nuovissima, non è legata esclusivamente al Covid, qualcosa si era già mosso, no? Mi ricordo ad esempio le visite al Villa Imperiale, le visite al Palazzo Ducale, per esempio, no? Mi ricordo, ecco. Che pubblico è dal punto di vista della guida turistica il pubblico pesarese? È molto interessato, molto interessato, si partecipa molto, infatti ecco ricordo le visite che si fecero anche a Palazzo Ducale ma anche a Rocca Costanza, io ne ho fatte in passato e c'è una grande partecipazione dei pesaresi, sono molto interessati, soprattutto in questi monumenti che sono sempre chiusi, che ogni tanto si possono visitare per magari iniziative particolari, ecco, c'è una grande partecipazione per cui è molto interessato il pesarese, alla nostra cultura e ai nostri monumenti. L'unicità della data secondo me gioca a favore, cioè quando si può dire, quel giorno lì, quel posto lì è aperto, gioca a favore di un'attenzione particolare e di un'adesione, altrimenti sapere, sono le solite cose, sono banali, però tu passi tutti i giorni in via Rossini camminando, non te ne accorgi nemmeno che passi davanti alla casa di Rossini, sotto il balcone, eccetera, se tu dici quel giorno lì, attenzione, perché si può entrare? E allora uno ci sta un po' più attento, credo che sia un po' nella natura delle persone e nella vita delle cose, insomma, no? Sì, sì, no, ma infatti i pesaresi rispondono immediatamente, anzi io sono convinta che se si potesse aprire Rocca Costanza alle visite, i primi sarebbero i pesaresi, e così pure il Palazzo Ducale, cosa che è stata fatta, sporadicamente però è stata fatta, no? Certo. L'apertura del Palazzo Ducale, adesso purtroppo negli ultimi anni è sempre stato molto complicato portare i visitatori al Palazzo Ducale, però ecco, quello sarebbe un monumento simbolico di Piesaro importante, da poter essere visitato, essere fruibile, questo sarebbe veramente importante per il nostro patrimonio cittadino. Un tuo sogno personale dove vorresti portare le persone a cui tieni di più, diciamo in tutta la città, un posto magari addirittura in cui non sei mai entrata? Oddio, non lo conosco se non sono mai entrata, però io penso il Palazzo Ducale di Piesaro che sia il monumento simbolico e importante da poter, diciamo, attrarre anche tante persone perché è un monumento bello, è un monumento importante e c'è tanta storia lì dentro, c'è tanta arte anche e quindi per me sarebbe quello, poter far visitare il Palazzo Ducale di Piesaro. Muoviamoci e attiviamoci, sicuramente qualcosa potrebbe anche succedere perché poi in un momento come questo nel quale si cerca la possibilità di muovere appunto certi settori e quello del turismo comunque della conoscenza dei territori è uno di questi settori, sicuramente sapere di avere uno spazio come quello. Che problemi ci sono? Ci sono problemi di sicurezza legati al fatto che è la prefettura? Sì, ecco, è legato alla prefettura, quindi anche i problemi di sicurezza negli ultimi anni hanno ristretto ancora di più questa possibilità. Se una volta era un pochino più accessibile facendo richiesta con gli attentati che ci sono stati, eccetera, i problemi di sicurezza hanno ristretto e quindi adesso è diventato impossibile visitarlo. E prima, insomma, ogni tanto si poteva fare, in passato io ricordo di aver portato dei gruppi, anche gruppi di stranieri, e vedevo i volti delle persone che entravano estasiate nel vedere il soffitto del Salone Metaurense o gli appartamenti del Duca, così affrescati. Il soffitto del Salone è talmente incredibile che spesso distrae anche quando si va a vedere qualche evento. A me è capitato, no? Se ci fossero qualche presentazione, qualcosa che magari proprio non erano così accattivanti, così, e alla fine ti metti a guardare in alto e ti incanti. Io poi che non so niente, non capisco niente, non mi intendo, non conosco, già sono affascinato. Immagino qualcuno che magari abbia una cultura diversa o magari con qualcuno che te la racconta e te la spiega, deve essere una cosa da starci mezza giornata, già solo nel Salone, questo Salone è gigantesco, chi non c'è mai stato non si può immaginare che cosa c'è al primo piano del Palazzo Duca, in Piazza del Popolo, si intravede da queste finestre ogni tanto qualcosa, ma chi non è mai entrato non si può immaginare l'effetto che fa la vastità per cominciare di questo Salone, ma poi tutto quello che c'è dentro, tante cose poi io non le ho neanche mai viste, mai avuto occasione, per cui speriamo che capiti, insomma, che ci sia questa attenzione, questa sensibilità. Qualche aneddoto speciale, qualcosa che ti è successo, qualcosa curioso che è successa? Di curiosità, insomma sì, infatti quello che vorremmo anche raccontare, condividere con i pesaresi nelle nostre visite guidate che faremo, beh, con la palla di pomodoro ce ne sono tante, col fatto che appunto palla di pomodoro, alle volte i turisti si aspettano di vedere una sorta di grande pomodoro, no? Mi dicono, ma quello è il pomodoro? Sì, sì. Io ho la famosa cartolina, lo sai, no? Quale? Io possiedo la famosa cartolina che è stata realizzata quando la palla era di resina bianca, nella quale per una, diciamo, leggeretta, ma troppo divertente, dietro la didascalia riporta palla di pomodoro, ma soprattutto con le traduzioni, per cui tomatoes bowl, e poi in tedesco che non lo so, è in francese, e io quella cartolina ce l'ho e la tengo gelosamente perché è un reperto, perché poi ho anche l'altra, quella che hanno fatto subito dopo qualcuno di aver detto ma cosa avete combinato, e allora dietro c'è correttamente nell'altra, però è la stessa cartolina, sfera grande, che poi è il nome ufficiale. Il nome ufficiale, sì. Sì, esatto. E questo è sempre un bell'aneddoto, no? Sì, sì, sì. Da raccontare. Il nome del tomato bowl, certo, certo, sì, sì, ma anche i turisti alle volte hanno delle uscite veramente molto simpatiche. Certo. E il pesarese, diciamo, è stupito dalla possibilità appunto di percorrere i luoghi della storia della città, percepisce, per esempio, adesso mi viene in mente ovviamente la cosa più ovvia la casa di Rossini, anche perché poi noi qui facciamo il programma, si chiama Casa Rossini, la casa di Rossini, cioè pensare che lì comunque... È nato, è cresciuto, giochino, sì. Cioè l'effetto c'è oppure viene presa come una cosa, dici sì, vabbè, ormai lo so. Sì, sì, no, no, ma assolutamente il pesarese addirittura partecipa con i suoi ricordi, con il suo sapere, racconta le cose che magari ha saputo attraverso i suoi nonni, quindi io spesso e volentieri conosco cose attraverso proprio i turisti, i visitatori che magari sono proprio della città, perché intervengono, perché raccontano anche loro quello che sanno, il loro sapere. Chissà se sai, per esempio, che c'è una cosa che dicono, chissà se lo sai, che sotto Casa Rossini c'era un calzolaio ai tempi di Pasqualone e lì Pasqualone lavorava ed è lì, dice la leggenda, che tranciando una scarpa di un cliente, perché lui ormai era cieco, dà in escandescenze al punto che viene preso e portato al suo primo ricovero a San Benedetto. E tutto questo succedeva in quello spazio che adesso poi è il bookshop, credo, di Casa Rossini, perché lì c'era il calzolaio, sotto Casa Rossini, nell'Ottocento c'era il calzolaio. Vedi, questa cosa io la conosco adesso. Vedi, vedi, rivenditela, rivenditela, perché è quasi certa, io l'ho letta nel preziosissimo libro di Riccardo Paolo Guccioni e poi c'è una leggenda che gira, te sai che Pasqualone a casa mia è abbastanza di casa, per cui è una di quelle cose che si ricordano e si raccontano. Allora, stiamo per concludere, stiamo per lasciarci, anche perché tu devi scappare e noi comunque abbiamo il secondo ospite che incombe. Volevo solo chiederti l'ultima cosa su queste cose un po' diverse che fai con Antonella, con Antonella Ferraro, di queste passeggiate con lettura, che è una cosa che, come potrai immaginare, a me, appassionato di libri e di lettura, mi colpisce molto. Sì, sì, abbiamo iniziato quest'autunno a proporre queste visite tra natura e storia e cultura e architettura interamezzate da delle letture, quindi sono letture che vengono scelte tematiche proprio per il tipo di visita che viene fatta e quindi pensavamo di andare avanti con queste iniziative, con queste proposte, quindi visita guidata e letture. Poi quest'anno è l'anno dantesco, quindi di letture ne abbiamo da fare, per cui ce ne saranno. Ce n'è, ce n'è. Allora, io credo che in questo modo, facendo conoscere, a parte che poi è un po' la nostra passione ormai qui a Casa Rossini, facendo conoscere bene persone e personaggi della nostra città che sono impegnati in certe attività, che sono attività che poi portano avanti con passione, sia il sistema migliore per tutelare queste figure, anche dal punto di vista professionale. Quello che ci eravamo detti all'inizio è vero, c'è la necessità di molta più cura, di molta più attenzione, c'è la necessità di qualcuno che vigili e che stia attento a chi si muove in maniera più o meno, diciamo, abusiva. È vero, ci sono tutte queste necessità, ma la cosa migliore che si possa fare è dare a chi poi diventa il fruitore la possibilità di distinguere, di saper distinguere tra chi queste cose le fa con serietà, professione e passione, come Patrizia che avete visto qui con noi e tutti i suoi colleghi, e gli altri che invece lo stanno facendo, magari che oggi li vede domani chissà, insomma. Credo che questa sia la cosa migliore. Esatto, io ti ringrazio tanto Paolo di avermi dato questa opportunità, da parte mia, da parte delle mie colleghe, ti ringraziamo perché hai dato voce alle guide con questa trasmissione. Guarda, io ringrazio te e ovviamente i ringraziamenti li giriamo a Rossini TV perché è Rossini TV che ci dà tutte queste possibilità. Rinnoviamo l'invito a tutti a partecipare rivolgendovi ai numeri che vi abbiamo dato prima e che se volete vi ridò anche perché da qualche parte ce l'ho, ah no, ce l'hai tu Patrizia il numero? Sì. Ah no, ce l'ho anch'io, 335-6144-241, 335-6144-241 per prenotarvi per la giornata del 21 in itinere e fare questa bellissima esperienza. Da lì sicuramente vi si aprirà un mondo perché conoscerete questo gruppo, questa pattuglia è agguerritissima di guide e da lì sicuramente vi verrà voglia di seguire anche tutte le altre iniziative che loro hanno proposto. Bene, allora grazie a te e noi adesso andiamo in pubblicità, ma prima di andare in pubblicità diamo una prima indicazione del sondaggio, 57% cane, 43% gatto. Il tutto nella giornata del gatto, mi stupisco, ringraziamo anche chi ci segue dai social, Stefania, Chiara, Alessio e Francesco, ricordiamo ancora di inviarci le vostre righe scritte per sottoporle alla indagine del grafologo il 24 febbraio, ringraziamo Tiziano Donzelli per aver curato l'allestimento del nostro studio e poi facciamo anche l'appello ai musicisti, oggi non ci sarà la musica per un motivo che poi vi spiegherò, però ricordiamo che i musicisti, soprattutto locali, che hanno prodotto dei video musicali di qualità, ce li possono mandare e segnalare e noi li manderemo in onda in una delle puntate di Casa Rossini. Restate con noi perché dopo la pubblicità sarà con noi il sindaco di Borgo Pace a raccontarci qualcosa di interessante, Romina Pierantoni, sindaco di Borgo Pace a raccontarci qualcosa di interessante sul suo comune. La parte più divertente, bentornati, è quella che voi non vedete, è quella nella quale io parlo per qualche secondo con gli ospiti che sono già arrivati e che stanno aspettando come me che finisca la pubblicità. Ci siamo detti delle cose, io e il sindaco Romina, anzi la sindaca Romina Pierantoni, buongiorno sindaca, buongiorno mi raccomando il microfono sindaca. Allora ci siamo detti delle cose al volo che adesso vi racconteremo che mi hanno già entusiasmato, insomma mi hanno già gasato. Allora perché ho fatto quella faccia quando ho detto la sindaca? Perché chiaramente, lo scopriremo poi dopo, ha un ruolo di consigliera di parità provinciale per cui figuriamoci, ce lo siamo detti al telefono, ha detto preferisce sindaco o sindaca? E la sindaca mi ha detto, figurati, io sono consigliera di parità provinciale e vuoi che non pretenda di essere chiamata sindaca? Giusto no? No, giusto anche perché le parole hanno il loro senso, quindi come esiste il sindaco esistono adesso sempre di più anche le sindache, quindi la maestra, andava più di moda del maestro però, quindi cominciamo a dare una connotazione di genere alle parole. Io sono appassionato di lingua italiana, per cui diciamo che lo prendo come neologismo, però ci sono sicuramente anche delle parole che non hanno genere, per esempio il regista e la regista, quello non si può cambiare insomma, no? No, rimane così. Ci cambia l'articolo. Ce ne sono esatto, ce ne sono alcune. Allora io ho preso il librone perché Romina Pierantoni è nata il 12 maggio e anche per lei noi andiamo a vedere che cosa dice il nostro librone che ogni tanto andiamo a prendere proprio per andare a fare una piccola introduzione. Allora il 12 maggio, e che curioso, è il giorno dell'individualista birichino, questa è la definizione del giorno che il libro dà e ogni tanto sono veramente divertenti. I nati il 12 maggio hanno un non so che di birichino che li contraddistingue. La loro impertinenza in genere non è tale da metterli nei guai con le autorità, ma ciò nonostante si sono conosciuti per dispetti e gogliardiche burle che attuano sempre con uno strano bagliore negli occhi. Allora il bagliore negli occhi se vuoi, io l'ho visto subito, non so, non la volete il libro, però questo strano bagliore negli occhi già l'ho visto, per cui forse il libro ci ha preso anche questa volta, chi lo sa? Ma ci ha preso sicuramente, con me almeno, perché vedi io ho una sorella gemella, una sorella gemella che è il mio posto, quindi sicuramente lei, se veniva lei, lei proprio ha la formalità, l'avvocato in persona, ecco invece io mi ci ritrovo molto, mi piace. Bene, allora siamo contenti di aver avuto l'occasione di confermare l'attenzione di questo libro che ci prende. Allora, nati in questo giorno Katrin Hepburn, che non ha bisogno di spiegazioni, l'attrice famosissima, e Dante Gabriel Rossetti, pittore, traduttore e poeta inglese dell'Ottocento, che io, devo dire la verità, non conoscevo. Pregi, lucida, capace, ironica, i difetti da molto tempo non li leggiamo più, perché tanto non ci servono e poi non ci interessano, per cui abbiamo dato un quadro. Romina ha un'origine come nome legato a Roma, naturalmente, per cui vuol dire, con tutte le varie accezioni, proveniente da Roma, ma penso che invece tu sia proveniente direttamente autoctona, Borgo Pace, ragazzi, Borgo Pace, ce lo siamo detti al telefono, quando tra l'altro abbiamo deciso di darci del tu, per cui questo è il motivo per cui, come sentite, ho questo tono confidenziale, ce lo siamo detti al telefono alla fine della telefonata. Romina mi ha detto, il paese si chiama Borgo Pace, cioè di cosa vogliamo parlare? E' vero, un posto che si chiama Borgo Pace, già ti dà, ecco, guardate queste immagini, già ti dà la sensazione di un posto dove si vive bene, dove si sta belli, tranquilli e tutto questo corrisponde alla verità? Allora, dobbiamo scendere in due parti, cioè da una parte è godere del bello, no? che un ambiente come quello che il nostro territorio, il nostro comune ci può offrire, e lì veramente è la pace, è la pace dei sensi, è il benessere, io dico sempre, noi siamo il territorio del benessere. E se poi invece andiamo a vedere tutti gli sforzi che oggi occorre fare e anche, cioè, per vivere nei territori dell'entroterra, è lì più di pace, diciamo che la mattina quando ci alziamo, diciamo, oggi dove vado in guerra? Ecco, però noi siamo sempre ottimisti, quindi siamo sicuri che queste guerre pacifiche porteranno sicuramente a capire bene il valore dei territori interni, che oggi sembra che si comincia a riscoprire, perché io dico sempre, quando mi chiedono, ma quanti abitanti è a Borgo Pace? Io rispondo sempre, 55 km2 di territorio, perché non bisogna dimenticarsi che oggi, quando pensano a noi, ad esempio, comune, 600 abitanti, dicono, ma quelli di, è un palazzone di Pesaro alla fine, dobbiamo sprecare i soldi per quelli. No, in realtà quelli mantengono 55 km2 di territorio italiano, che se non c'è la giusta manutenzione e quant'altro, può portare al deterioramento della nostra Italia, e questo naturalmente tenuto in considerazione quanti comuni piccoli, che sono oltre il 60% dei comuni italiani, e quindi ecco un po' quella che è la configurazione del nostro Stato. Questa è una riflessione che confesso di non aver mai fatto prima e per la quale naturalmente sono grato alla sindaca di Borgo Pace. Il territorio non va considerato solo, come invece di solito si fa sulla base del numero dei residenti, ma va considerato appunto sulla base anche dell'estensione in km2. Questo credo che sia una battaglia da portare avanti, perché è un concetto a cui io non avevo mai pensato, ma non è che io non avevo mai pensato, che non ho neanche sentito sottolineare. È una novità in qualche modo, che però mette al posto giusto tutte le argomentazioni che negli anni si sono tenute a favore o contro questi piccoli comuni, nei confronti dei quali spesso c'è una posizione critica, no? Sì, sicuramente. Ecco, io penso che questi siano gli argomenti che dobbiamo cominciare a porre, perché ad esempio tu sei pesarese, no? Allora, quanti pesaresi per il primo di maggio, per il 15 agosto, ma anche adesso molti durante il periodo, cioè il weekend, vengono nei nostri territori per fare trekking, per andare al fiume e per prendersi un po' di tranquillità e di sana aria pura, no? Ecco, allora, bisogna pensare che quando arrivano che ti dicono ah, ma Bellino qui a posto, il fiume in una certa maniera, c'è qualcuno che ci pensa. Quindi quando ci sono risorse da mettere per i piccoli comuni, non devono pensare che sono solo per loro, sono un po' per tutti, quindi ci deve essere questa coesione territoriale e quindi quella sinergia, secondo me, indispensabile ma reale tra costa e introterra. Ho specificato reale perché sempre più si parla di, cioè è tanto che si parla, no? La sinergia da costa e introterra. Però alla fin dei conti, no? È brutto quello che dico però è la verità, io sono abituata a dire almeno quella che è la mia verità. No, no, il mio gesto era per dire stringi, stringi, quando è al dunco questo non arriva. Esatto, perché alla fine è più comodo prendere scelte politiche che possono accontentare la massa perché quando si va a farsi eleggere ci si fa eleggere con la massa e non con le belle azioni, anche con quelle, per carità. Però diciamo che è anche quell'altro fattore da tenere in considerazione e quindi certe volte ci si dimentica di noi. Romina, Piero Antoni lo sa come si fa a farsi eleggere perché è al terzo mandato. Sì, allora, io sono al terzo mandato. Volontario non so fino a che punto, nel senso che avrei fatto volentieri a meno di fare il terzo mandato con la logica, ma siccome io sono abituata ad agire molto anche con il cuore, per me è il mio paese, io dico sempre che io vivo a Borgopace per scelta e non per disperazione perché molti dicono quei montanari. No, io ho avuto l'opportunità di vivere e lavorare all'estero, in Italia e da altre parti e oggi sono felicissima di aver allevato mia figlia che adesso ha 17 anni a Borgopace perché vedo che ha dei valori particolari. Uno soprattutto che è quello della libertà che nei piccoli centri si sviluppa bene, quindi la libertà che porta alla creatività, porta allo spirito di sopravvivenza, a tutte quelle caratteristiche che poi sono molto spendibili anche quando ci si mette nel mondo odierno, quindi anche nelle grandi città. Comunque detto questo, sì al terzo mandato, con molta passione. Io penso che veramente amare e capire quello che si ha intorno diventa indispensabile per qualsiasi amministratore e sono certa perché lo ritrovo io non è che sono l'unica, tutt'altro, cioè la maggior parte oggi degli amministratori perché io ho anche questa idea che per fare il sindaco, la sindaca o anche avere altri ruoli nelle amministrazioni oggi sotto i 10.000 abitanti non si è politici ma si è amministratori perché ci sono dei conti da far quadrare. Esatto, i conti da far quadrare e quant'altro. La quotidianità. La quotidianità, esatto. È un po' quello che sto proponendo come riflessione tutte le volte che incontro i sindaci e ne stiamo incontrando tanti. L'obiettivo è quello di incontrare tutti i sindaci del territorio della nostra provincia. La riflessione è proprio questa, cioè da una parte c'è questa voglia di esibire, esporre le peculiarità, le caratteristiche, le eccellenze dei territori in modo da diventare anche attrattivi e questo è un compito. Però poi c'è l'altro compito, quello quotidiano, che è quello di gestire la quotidianità dei residenti. Per cui lì diciamo che ancora di più esce questo ruolo da amministratore, cioè esce il ruolo di quello che deve decidere cosa e come spendere non solo per farsi pubblicità e far conoscere il borgo o la città o quello che è, ma per la quotidianità del residente che ha bisogno di un servizio piuttosto che un altro e ha bisogno di far chiudere con la famosa buca che magari è una delle caratteristiche delle proteste di solito che arrivano e tutto il resto. Per cui lì proprio c'è questa doppia valenza importante e la quotidianità è quella che assorbe tutti i giorni. Certo, ma c'è anche ancora di più l'impegno a poter superire alla mancanza di servizi che invece dovrebbero essere garantiti anche ai nostri cittadini in quanto abitanti, cioè avventi la residenza in un comune italiano. Di fatto molte volte per provocazione dico, ma scusatemi, voi ci dovete dire che noi non dobbiamo più dare le residenze perché se io penso che adesso anche con la campagna di vaccinazione un mio abitante, io dico, noi non so, c'è 55 km quasi di territorio divisi in sei frazioni che arriva fino in cima a Boccatrabaglia in cui ad esempio un abitante tra l'altro anche disabile è over 80 che mi deve andare a fare il vaccino. Allora per andare a fare il vaccino a Urbino con la Corriera ci mette all'incirco a due ore un quarto, da in cima a Boccatrabaglia per andare, due ore un quarto per venire. La Corriera ti ferma in un posto che è lontano dall'ospedale quindi devi prendere, cioè insostenibile per un anziano. Noi capiamo, abbiamo sempre capito molto e devo essere sincera non è tanto un discorso politico, meglio o peggio, cioè questa è stata sicuramente la costante di tutte le amministrazioni politiche e il fatto di dimenticarsi spesso e volentieri, no volentieri no, però spesso magari per necessità di quelli che erano i bisogni dell'entroterra e quindi il nostro compito come sindaco, prima quando dicevo la guerra, questa parola così brutta, è perché noi dobbiamo combattere, dobbiamo combattere per avere un bancomat perché dall'oggi al domani la banca delle Marche ci ha tolto il bancomat e quindi vogliamo fare turismo senza un bancomat? Impossibile, dobbiamo combattere perché i servizi sanitari, noi nel nostro territorio comunale non abbiamo i tempi di vita garantiti, no? E questo la regione Marche lo sa bene perché è stato fatto presente più di una volta, poi per carità ci provano sapendo che poi non ci si riesce, però dobbiamo fare una soluzione. Nella sottolineatura, questa è proprio una curiosità mia personale, nella sottolineatura di queste mancanze arriva anche la proposta di come risolverle oppure, certo, per cui c'è già una proposta? No, guardi io per dirle perché sennò uno potrebbe sembrare, no? Non si pone mai, ci sono dei problemi alle quali tu non puoi avere soluzioni, no? Certo. E cerchi di condividere, di ridurre quelli che possono essere i danni. Di esempio le due cose che le ho proposto la campagna vaccinale, è vero ci sono i problemi, il vaccino meno 80 gradi e quant'altro, ma noi abbiamo proposto il comune di Borgo Pace, Mercatello e Sant'Angelo, ad esempio con lo screening, da noi lo screening non sarebbero mai andate a farli a Urbani, a vista l'età della gente. Abbiamo fatto una lettera congiunta, e l'unione fa la forza, io sono sempre più convinta di questo, è stato fatto lo screening nel comune di Mercatello che a metà abbiamo avuto dei numeri altissimi, penso che la prima giornata sia stata quella con il numero di persone presenti più alta, di centri molto più grandi dei nostri, stessa cosa adesso per la vaccinazione, facciamo la vaccinazione a Sant'Angelo in Vado, no? Così mi riduci, non è che io dico vogliamo i servizi sotto casa, dobbiamo ottimizzare, capire la fattibilità delle cose, poi potrei dirle tanti altri problemi e magari darle anche delle visioni, delle soluzioni, che, oh, per carità, adesso non pensiamo che noi abbiamo la bacchetta magica e che pensiamo di sapere tutto noi, e chi è sopra non capisce niente, come ci dicono a noi alcuni cittadini, no? Che magari ci vogliono bene o bene, però certe volte bisogna fare uno sforzo in più. Sorridevo perché mi è piaciuto notare che come la sindaca è entrata nel suo ruolo di sindaca combattiva, ha iniziato a darmi del lei, e questa qua è una cosa bellissima. Ah sì, non mi sono nemmeno accorto, scusami, io poi do del tu, mi viene difficile sempre darlo del lei. Però invece lì c'era il ruolo, c'era il ruolo quello combattivo, ed è divertente e bello aver notato questa cosa, perché secondo me fa capire qual è l'animo con cui appunto ogni mattina si mette di impegno per affrontare questi problemi che non sono pochi. Parliamo anche di cose belle però adesso. No, no, ma noi abbiamo parlato delle poche cose tutte che ci riguardano. Parliamo di cose belle, per esempio l'AVL che è di casa qui a Casa Rossini, ma è di casa anche a Borgo Pace. Beh sì, ecco, con l'AVL già mi viene un sorriso grande perché è un progetto bello, nato grazie alla sinergia di un nostro operatore turistico, che però è anche appassionato di basket e che gestisce l'Oasi San Benedetto nella nostra frazione di Lamoli, che tra l'altro è una frazione quasi grande come il paese di Borgo Pace, è che praticamente un giorno mi ritrovai a cena con un uomo molto alto che si chiamava Ario Costa e da lì è nata questa cosa, secondo me, un progetto molto importante, molto importante per noi perché da lì è partito tutto un ritrovare le sinergie tra le società di basket del territorio, quindi è nato eticamente in gioco. Oggi Pesaro è il punto di riferimento accettato, voluto e sostenuto da tutte le società dell'entroterra e quando ci sono delle persone fantastiche come Ario Costa, come Luciano Amadori, come Cioppi, è impossibile non arrivare a questi risultati. Abbiamo un po', come si dice da noi, tribolato gli scorsi anni con i risultati anche al palazzetto, quest'anno gioiamo davanti alla televisione o il computer, ma la gioia è dentro è grande. E la gioia è grande, è grandissima. Avete questo impianto sportivo che può contenere praticamente quasi tutti i residenti, giusto? Questo palazzetto dello sport? Sì, noi abbiamo questo palazzetto dello sport fatto con finanziamenti negli anni passati, 400 posti, che potrebbe sembrare assurdo. Invece, secondo me, è stata una scelta anche lungimirante perché non dimentichiamoci che 25 anni fa Borgo Pace, con un campo sportivo molto all'avanguardia, è stata sede di importantissimi ritiri di calcio, anche il Bari Calcio quando era in Serie A, l'Ascoli, la San Benedettese, e che quindi smuoveva anche da un punto di vista turistico parecchio. Ancora ci sono famiglie baresi che continuano a venire a Borgo Pace. Certo, e qui torniamo un po' al discorso di prima, cioè se dovessimo limitarci al numero di residenti non si farebbe niente. Invece l'idea è che costruiamo una struttura proprio per metterla a disposizione di un territorio che non è limitato neanche al grande confine territoriale che comunque è ampio, ma addirittura a tutti i comuni limitrofi, alla provincia, ma all'Italia, perché poi diventano dei punti di eccellenza anche a livello italiano. Ma sicuramente noi, avendoci questo palazzetto, che naturalmente non essendoci una società a Borgo Pace, che è il problema di occupare gli spazi, grazie anche a una convenzione con la FIP nazionale, ospitiamo i concentramenti. I concentramenti di basket vuol dire che ti arrivano otto squadre che poi si distribuiscono nel territorio. Quindi non è che stanno a Borgo Pace, ma i valori aggiunti di Borgo Pace, Mercatello, Sant'Angelo, Urbania, Fermignano, fino a Rubino. Quindi un po' questi sono progetti di larga veduta e di quella sinergia che io dico essere indispensabile. Inserite in questo concetto del benessere, di cui appunto già la definizione e il nome del paese sono simbolici. Poi mi hai detto una cosa, che io mi sono segnata al volo e che non sapevo, che praticamente a Borgo Pace questi due fiumi, che sono il Meta e l'Auro... Allora, ci sono due torrenti. Il Meta, che nasce nel Monte Sant'Antonio, sua Boccatrabaria, e l'Auro, che invece nasce nell'Alpe della Luna, che dividono le due vallate di cui si... La Valle del Meta. La Valle del Meta e la Valle del Lauro. Arrivati a Borgo Pace, cosa succede? Arrivati a Borgo Pace, proprio sotto si confluiscono e noi diamo la nascita al fiume più lungo delle Marche, che è il famigerato Metauro. Metauro, capito? Io questa cosa qua non la sapevo, per cui la rivendo così com'è, e chissà tra i nostri telespettatori chi la sapeva. No, no, ma ti dico che questa cosa qui entra nelle famiglie attraverso le gite delle terze elementari in cui si studia il fiume e quindi tantissime sono le... C'era un'immagine di questo. Sì, tantissime sono le scolaresche che vengono al Metauro. Tutte queste cose voi le raccontate? Questa è la confluenza. Esatto, e questo è il punto chiaro. Sì, sì, ecco questo qui è da dove nasce tutto. Pensa che spettacolo. In questo momento qua abbiamo più acqua di adesso, però ecco, lì questa è una ripresa fatta luglio, può essere. Per cui già ce n'è di acqua per essere luglio, insomma, che non è certamente... Sì, 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 l'acqua se non c'è da noi che ci abbia le sorgenti... Eh, mannaggia. Ma poi... Stavo dicendo che tutto questo voi lo fate vedere anche attraverso un sito nuovo del comune, giusto? No, allora, a breve dovrà essere inaugurato un sito sul turismo nuovo del comune di Borgo Pace, che tra l'altro sono molto contenta perché è stato seguito anche da un consigliere giovane del nostro comune, William, che ha 22 anni, quindi ecco, un po' di tecnologia sicuramente da perfezionare cammin facendo, però ecco, a breve ve lo faremo vedere. Prima abbiamo parlato della frazione di Lamoli, no? A Lamoli c'è il monastero. L'abbazia benedettina di Lamoli. L'abbazia benedettina. Sì, che è il nostro contenitore culturale, ma anche bene culturale più importante di tutto il territorio. C'è un'abbazia veramente tenuta molto bene, del mille, in cui ancora si celebra. E questa? Esatto, questa qua è l'abbazia. e da cui tra l'altro sono partite nuove sinergie, perché con i luoghi del cuore del FAI, un gruppo di donne, perché vedi, le donne sono belle toste, no? Lo stiamo capendo, lo stiamo capendo in questa puntata, poi in particolare. Sono con i luoghi del cuore risultate prima nelle Marche, come raccolta voti, si pensa che da Lamoli 100 abitanti siamo riusciti a raccogliere più di 26.000 firme, grazie a una donna, Nadia, in primis, ma anche a tutto il gruppo di persone che stava in Svizzera. Cioè si è creata proprio una rete e da lì è partito, nelle Marche Ottavi in Italia, da lì è partito il restauro che si è appena concluso e quindi a breve dovrebbe essere riaperta la chiesa con il tetto tutto nuovo e quindi questo vuol dire preservarlo nel tempo, ma anche tutta una nuova illuminazione e poi so che ci saranno altri progetti importanti per valorizzare questo sito che è veramente molto importante e ne vale la pena. Con una destinazione che al momento è visita ma che potrebbe diventare anche qualcosa di più completo. Certo, comunque di fianco c'è, tra l'altro dove poi risiede la VL, c'è già l'Oasi, che quindi con l'albergo, attività legate anche ai colori naturali, c'è il Museo dei Colori Naturali quindi con i laboratori, ma soprattutto si respira il benessere, un benessere anche non tranquillo ma anche laborioso, perché i monaci benettini ora è clabora, noi diciamo prega chi vuoi, lavora un po' e sicuramente il benessere arriva. Certo, certo. Poi un'altra cosa, dopo noi certe volte siamo un po' scambiati perché, no, montanari, magari, no, 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 no. Io ho abitato dieci anni in Madonna di Campiglio, con i montanari sto benissimo, insomma. Sì, però Madonna di Campiglio è chic, no? Te pensi a Borgopace, ti vengono in mente le nostre bellissime immagini dei carbonai che ancora tra l'altro ci sono ed è una cosa bella, no? Ti viene in mente la patata rossa, quindi il nostro prodotto tipico, gli gnocchi e quant'altro. però se vuoi fare una partita a golf puoi tranquillamente venire a Borgopace. Hai capito? Perché... Cioè, vi rendete conto di cosa stiamo parlando, no? A questo punto, siccome mancano una decina di minuti e secondo me ce li giochiamo tutti, qui c'ho la parte quella scritta penna, quella che ce l'avevamo detti proprio poco prima di andare in onda. Cos'è questa storia della casa, della scrittura? E me la dici così al volo pochi minuti prima? Io che sono così appassionato di scrittura, di aver fondato un gruppo a Pesaro, un gruppo a Facebook che si chiama Scrivere a Pesaro, devo saperlo, che cos'è? Allora, io di fatti te l'ho detto perché ho sentito la precedente ospite alla quale tu dicevi che sei un appassionato. Allora, il progetto della casa della scrittura è un progetto che viene fatto proprio in questo edificio qua, che è di fronte alla confluenza del mete dell'Auro. e prima ospitava il museo del carbonaio che oggi stiamo portando fuori perché diciamo i carbonai si possono vedere tranquillamente, fortunatamente da noi nel periodo in cui lavorano anche esternamente, come dicevamo prima. Allora, il progetto della casa della scrittura è questo. Allora, Borgo Pace ha cominciato a legare molto il proprio marketing, ma anche nel recupero di quello che era la storia, perché per noi è molto importante. Cioè da noi la persona anziana veramente ha un'importanza forte, perché è il sapere che ti trasmette. Il deposito del sapere. Esatto, e da noi poi ci sono molti migrati all'estero e quindi cercare un po' di ricongiungere tutte queste storie. Quindi sono stati fatti dei libri fotografici, o meglio, ci sono stati proposti, poi ci hanno preso come è, e noi siamo stati ben contenti di essere i protagonisti. E abbiamo pensato a questo brand che è il territorio da fiaba, no? Perché un po' i nostri boschi, le nostre vie, i nostri castelli ti ridanno di questo aspetto fiabesco. E da lì siamo partiti otto anni fa con Renata Agostoli come direttrice, quindi una pioniera delle ludoteche e quant'altro, a raccontare il nostro territorio. Quindi diamo un tema e i ragazzi delle scuole medie raccontano il nostro territorio. A questo punto qui che cosa è successo? Che abbiamo cominciato ad entrare sempre più in sinergia con persone che erano dell'ambiente letterario e quant'altro, in modo particolare con librari al palcoscenico del libro, che è nella persona di Daniela Luigi che è un editor della Carocci. e un giorno mentre nevicava pensavamo a questo, e io gli ho detto c'è un posto magico, te lo devo far vedere. Siamo andati giù a questo punto della confluenza, dove c'è l'acqua e c'è l'energia, no? Certo. E quindi oggi che cosa c'è? Ancora deve essere inaugurata la casa. C'è questa casa che era già stata tutta messa a posto, quindi è in cui tu entri. L'idea è quella di dare le chiavi a chi vuole scrivere, no? E può entrare all'interno della casa. L'idea è che gli scrittori possono adottare una delle librerie o donando i propri libri. E quindi da lì poter fruire e far usufruire della bellezza dello scrivere. Tra l'altro siamo risultati, adesso abbiamo provato un progetto perché dopo un po' ci giochiamo, no? Su queste cose ci proviamo. È stato fatto un progetto che si chiama Carofoglio Ti Scrivo, in sinergia con l'Istituto Grafologico di Urbino e una società Vademecum di Ascoli Piceno. Abbiamo provato così, ma con possibilità di vincere il bando assoluto, cioè un sabato e una domenica cercando di... E invece l'abbiamo vinto e quindi adesso ci sarà questa bella sinergia proprio anche da un punto di vista grafologico, quindi l'importanza dei bambini, dei ragazzi, di riportarli. Sotto c'è un micro museo della scrittura che si può, diciamo, visitare con le audioguide, ma è piccolissimo e quindi pensate... E l'altra cosa che si potrà fare è venire in questo bellissimo parco e prendere un audiolibro, farsi una passeggiata e ascoltarsi il libro. Devo assolutamente far parte di questa avventura. Ancora questo io premetto, tutte cose che devono essere inaugurate e ancora, ahimè, colpa Covid, nemmeno a conoscenza della popolazione oltre che dei turisti. Contate su di me, lo prendo come impegno in diretta televisiva perché assolutamente la cosa è entusiasmante, tra l'altro quando ho visto la foto prima mi si è letteralmente mozzato il fiato dalla bellezza di quell'immagine, tra l'altro foto fatta molto bene, però di quella casa insomma che appunto avete scelto, ecco questa, questa è un'immagine letteralmente mozzafiato e niente, io cosa posso dire? Devo assolutamente esserci e voglio assolutamente contribuire. Allora, un carissimo amico di Borgo Pace che viene spessissimo è Carlo Bertini, no? Quell'orso di Carlo Bertini, come lo chiamo io, che però veramente, cioè ecco, ha scritto e ha saputo cogliere veramente chi sono gli abitanti dell'entroterra e quali sono i valori aggiunti. Una volta ha scritto una cosa mi ha fatto anche commuovere quanto era bella, perché avrei voluto... Quando la scrittura è bella commuove, perché arriva dentro e tocca le corde giuste, insomma, per cui è un bel segnale. Sì, dopo noi con la scrittura abbiamo bei nomi, perché Luca Dini, che è stato direttore della Condenast, cioè direttore della Condenast e adesso lui è il direttore di F, cioè è un abitante, cioè è originario di Borgo Pace, ma adesso ha ristrutturato tutta la... cioè crede in Borgo Pace perché ce l'ha nel sangue, quindi vuol dire che qualcosa di magico questo Borgo Pace ce l'ha. Che meraviglia! Sono convinto di essere riuscito a trasmettere ai telespettatori a casa questa voglia di prendere e salire sulla macchina, sulla moto, su quello che avete e andare sicuramente a vedere, a scoprire e magari poi a fare anche riflessioni. Abbiamo veramente pochissimi minuti, però te li volevo lasciare per questo discorso della consigliera di Parità Provinciale, questo ruolo così poco noto e così importante invece. Sì, sicuramente c'è un ruolo poco noto, perché sai, per me, secondo me c'è il problema un po' che per dare il contentino alle donne si creano i ruoli, si fanno le commissioni pari opportunità, le quote che io all'inizio criticavo, ma poi con cui sono d'accordo, perché se per entrare ci vuole un obbligo, ci mettiamo indietro un po' d'orgoglio perché pensiamo di essere un valore aggiunto, non qualcosa che deve essere imposto, però l'importante è esserci, perché poi così puoi mostrare il valore. Però dicevo, ecco, un po' di questa... Cioè, noi donne lamentiamo questo, è la cosa che secondo me fa più male ancora, è che molte volte, vedi, quando tu dicevi prima sindaca sindaco, no? Che ci sono tante donne che pensano e dicono, ma quelle sono cavolate, no? Ma dov'è il problema? Quindi il fatto che io non critico nessuno, perché io sono per la massima libertà, ognuno deve prima conoscere e poi essere libero di esprimere la sua opinione. Il problema è che molte volte non conosciamo, senza renderci conto di non conoscere, perché se ci rendiamo conto, questa è un'altra cosa di cui parlavamo l'altro giorno al telefono, no? Del gender gap, cioè di quanto sia grande la differenza tra lo stipendio di una donna e lo stipendio di un uomo, no? E certe volte mi dicono, ma scusa, ma non è vero? Perché tanto anche nel pubblico, quello che guadagna un uomo guadagna una donna. Il gender gap è una cosa diversa, cioè è mettere insieme tutte quelle che sono le parti contributive, cioè gli stipendi presi e si va a vedere che la parte maschile è molto, molto di gran lunga superiore a quella femminile. Cioè non nascondiamocelo, adesso siamo contenti che ultimamente le cose stiano cambiando, ma già il fatto che siamo contenti e le notiamo ci fa capire di quanto sia deficitaria. Comunque tornando alla consiglia di parità, è questa figura che è un pubblico ufficiale, che viene nominato dal ministro del lavoro, e che è praticamente a disposizione per promuovere, per accogliere anche persone che pensano che nell'ambito laborativo non vedono applicate quelle che sono le pari opportunità e quindi è un punto di ascolto, di conciliazione e anche eventualmente di intervento nelle sedi opportune per supportare donne, ma non solo, perché non dimentichiamoci che le pari opportunità sono purtroppo per la società in cui viviamo prevalentemente qualcosa che viene utilizzato dalle donne, però basta che noi pensiamo al mondo omosessuale, pensiamo a quelle che possono essere considerate minoranze, e quindi chi pensa di averne bisogno può contattare, sul sito ci sono i numeri e quant'altro, noi lavoriamo in sinergia con la provincia di Peso Rubino, in segreteria con me c'è Graziella Bertuccioli che veramente lei è una delle menti storiche, ma da un punto di vista conoscitivo ne sa tante tante, quindi vediamo come poter supportare e aiutare. Bene, allora anche oggi siamo arrivati a conclusione, sono state con noi Romina Pierantoni, sindaca di Borgo Pace e non solo, perché ne abbiamo raccontate tante e abbiamo fatto conoscere un territorio e anche tanti ruoli che ricopre, Patrizia Bucci, guida turistica abilitata che ci ha parlato di Initinere, speriamo, ci auguriamo di essere riusciti ad appassionarvi come noi, in prima persona, io in prima persona mi sono appassionato alle storie e alle cose che ho sentito raccontare oggi, l'appuntamento come sempre per quanto riguarda Casa Rossini in diretta è per venerdì alle 10, ma con tutte le repliche noi vi riproponiamo la puntata, oggi pomeriggio alle 16, questa sera alle 22, domani pomeriggio alle 15.30 e poi la maratona televisiva domenicale con le tre puntate. Allegra, mi sono dimenticato niente? Ho detto tutto? Mi piace citare la nostra segretaria di redazione Allegra, puntualissima, nella selezione e nella gestione del calendario, nonché assistente prezioni in studio. Ancora grazie sindaca e alla prossima occasione, mi raccomando con la storia degli scrittori che è importantissima. Guarda, appena facciamo l'inaugurazione subito sarai informato. Perfetto, perfetto. Grazie a tutti, buona giornata, restate sempre con i programmi di Rossini TV e non ve ne pentirete. Grazie a tutti.